Poi sembra scrivere... No, allora... Visto che l'emulatore ce l'ha messo... Aspetta... L'emulatore ce l'ha messo nel culo Anzi, lo screensaver ce l'ha messo nel culo Facendo bloccare l'emulatore Qui vedrete un bellissimo mouse ora E va a far mafia E mentre ci avventuravamo nel nulla con Poemon Si è bloccato Non si vedeva più lo schermo E l'emulatore è praticamente crashato Devo notare che qui c'è il tito Poemon Moon Poemon Della serie di bug delle roba Delle isole Delle isole Delle cucchia Oh, andiamo bene Non è possibile andare Non è possibile andare Ci saranno attaccate tipo pure ma non ci cazzo niente Che deve andare? Intanto se piglio uno di fuoco basta andare lì a schiattare Cioè farti salvare Cioè dopo E' tutto uno spoiler Perchè si E' uno spoiler E' capito E' un po' che statistici ragazzi E' un po' che statistici ragazzi E' un po' che statistici ragazzi E' un po' che E' un po' che E' un po' che E' un po' che Il chat E' un po' che E' un po' che mmh che da un figlio eh? è buono vero? forse le mani a rinforzare soprattutto la gente pensa sia una sigaretta che gioia oddio dè come le chiamate qua? eh? come le chiamate qua? scudo wow minchia guarda l'evoluzione più veloce del secolo vabbè no no non so chi diventa forse quell'essere quei denti giganteschi bianchi con l'orecchione mi? 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 i mi? 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 per morire mi? mi? Tanto se puoi fare il completamento, prima se puoi sbagliare... Tanto non ho detto. Ho passato la parola, ho passato la parola. Ah beh, il luogo si, non puoi dire, magari. Senza dire quelli di maggiore. E' importante. Devo pensare a fare il minimo, se so, almeno del minimo. Fa un po' sbagliare. Fa un po' sbagliare. E' un po' sbagliare. Si, ma che sempre parlavano. Si, juniori. Ma tutti... Poi, percoltare? E' un po' sbagliare. Non puoi fare. Non puoi fare, non puoi fare. Ma ho fatto, non puoi. Non puoi fare, non puoi fare. Se liberi poi, non puoi fare, non puoi fare, non puoi fare, non puoi fare. Non puoi fare, non puoi fare. Non puoi fare, non puoi fare. mi dici come la sua risposta? ah! ma cosa lo manco? si, tirlo verso uno è abbastanza ambiguo ho attaccato anche verso io e ti ho matato ci credi che non posso dare da ammaggiata perché ho finito esserlo io? mi ha attaccato? no, loro fanno che ha uno che si chiama pish o strish mi ha attaccato pish o strish che gente c'è su ho chiamato e non l'ho fatto veramente danno anche hai spaccato il culo beh, anche no, voglio fare l'esperimento eh sì ma guarda dove è coltanto? anche qui ho dormito anche qui due ore chi? anche io sarò chi sei meee meee a 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 calcino sega a 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